Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro Salvini finisce sulla prima pagina del Financial Time. Perché? Cosa avrebbe fatto Salvini per finire in prima pagina all'estero? Si parla del tutto rinviato, del forse non se ne farà nulla, del voto che dice no ai veicoli a motore termico allo stop per il 2035 di benzina e diesel. Quindi viene rimandato a data da destinarsi, che significa per adesso è tutto sospeso perché l'Italia e altri paesi si sono opposti e hanno detto no allo stop, alla vendita di auto, camion, eccetera, eccetera, dopo il 2035 con motori termici. E questo è avvenuto ieri mattina dove ai voti è stato messo proprio questo argomento e i rappresentanti permanenti degli stati dovevano approvare questa norma per poi approvare in maniera definitiva il Consiglio europeo di martedì. Ma la presidenza svedese di turno dell'Unione europea ha deciso di fermare tutto dopo il no dell'Italia che sommato a quello di Polonia e alla stensione di Germania e Bulgaria avrebbe impedito di raggiungere la maggioranza qualificata. Il 55% dei paesi ma devono avere anche il 65% della popolazione e solo la Germania ha il 18% della popolazione europea. Giorgia Meloni parla di grande successo italiano dicendo che una transizione sostenibile ed equa deve esserci ma deve essere pianificata e condotta con attenzione lasciando la libertà agli stati di percorrere la strada che reputano più efficace e sostenibile senza chiudere a priori il percorso verso tecnologie pulite diverse dall'elettrico. La linea italiana, quella italiana, la Meloni dice ha trovato largo consenso in Europa e per il Ministro dei Trasporti Salvini si tratta di una grande segnale che è arrivato anche grazie alla Lega e questa mattina Salvini, vicepremiere e ministro, è sulla prima pagina del Financial Time Weekend Europa nell'articolo che dà ampio spazio alla decisione europea di prendere tempo sullo stop per i motori diesel e benzina dal 2035. Perché lui e non Meloni? Lui perché è Ministro dei Trasporti. Se ci fosse stato Ministro dei Trasporti Toninelli avrebbero messo Toninelli. E' stato fondamentale, dice poi Salvini, il feeling politico costruito dal leader, da lui stesso, con alcuni colleghi del vecchio continente a partire dal tedesco Volker Wissing, che non a caso era venuto personalmente al MIT, cioè in Italia al Ministero dei Trasporti, il 31 gennaio 2023, per un bilaterale. Secondo il Dicastero, il Ministero italiano, l'Italia si sta riaffermando con un ruolo centrale in Europa a tutela del lavoro delle imprese minacciate dall'egemonia cinese. Quindi il punto è l'egemonia cinese o il punto è un altro? L'industria italiana automotrice, automotive come viene chiamata, si sta portando allo stesso livello di alcuni paesi. Ci sono alcune case automobilistiche, se voi guardate in internet e andate a vedere alcune case automobilistiche, hanno quasi esclusivamente solo macchine elettriche, o quelle che hanno sia elettrico che motore termico. Ad esempio, se voi guardate delle case automobilistiche tedesche, hanno sui listini, anche li trovate in internet, la maggioranza sono auto elettriche e la prospettiva è entro uno o due anni di vendere solo auto elettriche o elettriche assieme al motore termico, quello che c'è oggi. Pertanto usciranno macchine che saranno sempre elettriche, magari qualcuna con il motore termico. Quello che mi chiedo io, le nostre case automobilistiche stanno facendo la stessa cosa o siamo ancora molto indietro? Perché qui è una corsa che deve fare tutto il mondo. C'è una conversione dal motore termico al motore elettrico, indipendentemente dal fatto che dal 2035 si potranno ancora comprare auto come oggi o solo elettriche, indipendentemente da quello, il punto è che già tante case automobilistiche stanno vendendo quasi esclusivamente solo elettrico. Quindi, indipendentemente dalle leggi che farà l'Europa, si sta andando verso l'elettrico. E tutti ci si dovrà, prima o poi, adeguare. Il punto è, per avere tutte auto elettriche, l'Italia dovrà essere riempita di colonnine elettriche, nel senso che quasi ogni parcheggio dovrà avere la colonnina della ricarica. e quelli che, ad esempio, quelli che non hanno la villetta, dove cavolo caricano la macchina? Quelli che lasciano la macchina in strada perché non hanno il garage? E mica possono caricarsi la macchina nella presa elettrica della casa? Quelli lo possono fare, quelli che hanno la macchina vicina o attaccata o dentro la proprietà, la propria proprietà. Pertanto, come a me in passato capitava di vivere in appartamenti che non avevano il posto auto e dovevo lasciare la macchina fuori, lì ci vorranno delle colonnine elettriche, perché sennò la macchina non parte. Adesso mi immagino quelli che hanno la macchina aziendale, che la lasciano sotto casa. Come fanno il giorno dopo a partire? Dove la metti a caricare? Va bene, sono tutte domande che prima o poi avranno delle risposte. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti.